Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui su Minecraft Perché Oggi creiamo un nuovo mondo Per fare una serie insieme a voi Adesso io direi di chiamarlo Minecraft Vabbè facciamolo che le chiamiamo Minecraft 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 E vediamo un pochino Poi ragazzi per favore Scrivetemi un nome Che potreste piacere A voi Che potrebbe piacere a voi Per questa nuova serie di Minecraft Quindi per adesso Non si chiamerà questa serie Ma Lo dovrete decidere voi Io direi di iniziare Subito a prendere il legno Perché io nelle survival cosa faccio Nelle survival io inizio A prendere il legno Dopo che ho preso il legno Mi faccio un bel piccone Infatti c'è una Scusatemi Una crafting table Poi dopo che mi sono fatto la crafting table Mi faccio un piccone Di legna Perché Ma Ragazzi Questo mi da Ragazzi questo non lo sapevo E guardate Mi faccio un bel piccone così Ok Per prendere La cobblestone Comunque Mi sono dimenticato di dirvi Che Vabbè L'avrete letto dal titolo Ma per sicurezza Siamo nella versione 1.16.2 La versione Nuova comunque Dove c'è il nether update Quindi Sarà una serie Molto molto Carina Perché ci saranno Tantissime cose nuove E ogni giorno Cioè vabbè Ogni giorno no Però Ogni totti di tempo Comunque Aggiorneranno questa serie Quindi sarà sempre 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 Più bella Comunque Adesso Facciamoci un po' di stick Perché ci facciamo Prima di tutto Un bel piccone Perché ovviamente Il piccone ci serve sempre Oltre al piccone Direi di crearci Una bella ascia E poi Anche una spada Perché ovviamente Senza spada I mob Sono Ci assaltano Fanno FBI Open up E ci uccidono Ok ragazzi Mi sono fatto Tutto In pietra Mi sono preso Un po' di cibo E mi sono preso Anche un bel po' Di legna Per farci La nostra prima casa E noi siamo nati qua E ho subito visto Che qui c'era la neve A me la neve piace Tantissimo Quindi Io Ho detto Vabbè Facciamoci Una casetta Qua Molto Molto comunque Non troppo grande Perché Abbiamo appena iniziato Non è C'è troppo grande Poi dopo C'è comunque È un bel po' Troppo grande Poi dopo Quindi per adesso Io direi di farci Non un cubettino Così piccolo Qualcosa di grandicello Ma che non sia Troppo Per noi Comunque Per l'inizio Perché per l'inizio Comunque La casa Non ci serve Tanto Ragazzi Secondo voi Questa casa Minuscola Potrebbe andare bene Secondo me Sì Perché comunque La casa Serve solamente Per proteggersi Dai mob Per depositare Le cose Ma comunque Ragazzi Fateci conto Che non è Che abbiamo Così tanta roba Quindi Boh Per adesso Per adesso Non è che ci serva Così tanto Distruggiamo qui Perché Volevo farci Un attimino Il pavimento Non so se Ci riusciremo Con 25 Perché comunque Guardate qua Mi sa che È un bel po' Di più Di 25 Vediamo un pochino Quanto sprechiamo È un bel 10 Altri 10 1, 2, 3, 4, 5 No ragazzi No ragazzi Non ci credo Ragazzi Mi sa che è giusto Lo sapete Che mi sa Che è giusto Mi sa Che è giusto Vediamo un pochino Oh Vediamo un po' Ragazzi È giusto È giusto Comunque ragazzi Scusatemi Se c'è Un pochino Di rumore Ma c'è Un vento fuori Che non potete capire Da me E quindi Le persiane Vanno un pochino Così Ah No Non è giusto Ce ne manca uno Non ci posso credere Vabbè Tanto comunque Dobbiamo andare Per prenderci Ah no Gli scrivi Non so più parlare Ok ragazzi Ok Ho depositato Tutto Ho fatto tutto Se vi state chiedendo Comunque Da dove ho preso Il carbone L'ho preso Dalla caverna Che c'era All'inizio Spawn E poi dopo Vi faccio vedere Subito Allora Direi di prenderci Ancora un pochino Di cobblestone Perché volevo farmi Oltre a tutto Quello che ho Anche una fornace Perché comunque Ci servirà Ci servirà Molto E oltre a quello Volevo anche vedere Un attimino Se ci fossero Delle pecore Ma in questo momento Non ne ho vista Neanche una Ma neanche Ho sentito Un pochino Il suo rumore Ma neanche 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 Quindi Non so Però per adesso Adesso andiamo A cercare Depositiamo comunque Le cose che non ci servono Tipo questo 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 Sì E andiamo a vedere Un pochino Se c'è qualche Pecora In giro Perché ci servirebbero Tantissimissimissimo E si sta facendo Notte E noi ci servono Le pecore Per farci il letto Perché se non abbiamo Il letto Poi dopo moriamo Io ho fatto Pochissime serie Di minecraft Vanilla Vedete ragazzi No 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 Non è da qui Che l'ho preso Dov'è che è No è Oddio ragazzi Ecco Ah sì Ok da qui Che l'ho preso Stavo dicendo Ma scusa Non c'è qua Ho fatto pochissime serie Di minecraft In survival Perché comunque A me Piaceva Di più La creativa Perché A me piaceva Costruire Tantissimo Ma Da quando Ho iniziato A fare Lo youtube Tra virgolette Mi è iniziata A piacere Veramente Veramente Molto La survival Quindi ho iniziato A fare più survival E quindi Non è che sia Così tanto Scarso Nella survival Ma neanche Così tanto Forte Però a me Piace Veramente Tanto E quindi Ho voluto Portare Questa cosa Adesso Vediamo un attimino Quando arriva Giorno Ok Buongiorno Buongiorno Mondo Buongiorno Allora Cosa faremo Adesso Comunque Il primo episodio Non è che facciamo tanto Ci facciamo la prima casettina Comunque Per Riuscire A sopravvivere Alle nuoti E Io adesso Off camera Cercherò Le pecore Ma Spero di trovarle Assolutamente E Nel prossimo episodio Attenti Non mi fate male Per favore Nel prossimo episodio Andremo Alla ricerca Qui sotto Per vedere Un pochino Cosa c'è Io spero che ci sia Qualcosa di buono Perché se non c'è Qualcosa di buono Ragazzi Io mi arrabbio Io lo dico No io mi arrabbio No vabbè Adesso E Oltre a quello Ragazzi Lasciate un bel like Per supportare questa serie Mi farebbe veramente Piacere Iscrivetevi al canale Comunque se non l'avete ancora fatto E comunque Se questo video È stato di vostro gradimento Se vi è piaciuto E ragazzi Ciao a tutti